Per il terzo anno consecutivo il comune di San Luca sarà guidato dal commissario prefettizio Salvatore Gulli. La notizia della conferma è stata data dal prefetto Michele Di Bari nel corso del workshop tenutosi a San Luca su iniziativa del Galdi Locri. Con la conferma del dirigente originario di Messina, ma da anni residente in Calabria, il prefetto ha voluto ribadire la vicinanza dello Stato al paese di San Luca, che sperava molto, nella riconferma di Gulli, un funzionario che si è calato anime e cuore nei problemi del paese a Spromontano, anche se, come ha ribadito il prefetto, molte cose devono ancora essere realizzate o portate a compimento, soprattutto sul piano dell'arredo urbano, affinché San Luca diventa un paese sempre più bello e accogliente. Salvatore Gulli arrivò per la prima volta a San Luca il 13 giugno del 2015 dopo una gestione straordinaria fallimentare durata tre anni, perché all'indomani dello scioglimento dell'amministrazione guidata dal sindaco Sebastiano Giorgi, le due liste che erano pronte a contendersi il palazzo municipale, furono sciolte quando mancava soltanto una settimana al voto. E perché nella tornata successiva l'unica lista presentata liberi di ricominciare, guidata dall'operaio Giuseppe Trimboli, non riuscì a raggiungere il tanto sospirato quorum per una manciata di voti. Da qui l'arrivo del commissario. Con la conferma di Gulli, molto stimato dall'agente di San Luca e dai dipendenti del comune, il prefetto di Bari ha voluto dare un segnale di continuità, ma anche lanciare un messaggio che va nella direzione di far capire alla gente di San Luca che lo state molto attento ai problemi di uno dei comuni più difficili dell'entroterra spromontano, ma che c'è anche la necessità di ripristinare al più presto la democrazia nel paese di Corradalvaro, perché è chiaro che le gestioni commissariali non possono durare a lungo e se così e vuol dire che qualcosa non ha funzionato e tutti abbiamo sbagliato e siamo responsabili. A Gulli il compito molto delicato di traghettare il paese da qui alle prossime elezioni, tenendo presente che molte cose devono ancora essere realizzate, a parte la regolare raccolta dei rifiuti solidi urbani o il ripristino e risanamento dell'acquedotto comunale, grazie al lavoro degli operai di Calabria Verde. Il primo banco di prova è già nell'aria, perché fa poco meno di 24 ore. Il commissario dovrà gestire il vulcanico Klaus Davi, che salirà a San Luca per ufficializzare la sua candidatura a sindaco.